Musica Ciao ragazzi Bentornati ragazzi Ho avviato la registrazione Allora Siamo tornati con Tazguante Bene ragazzi allora riprendiamo subito Non da MTT Ma da Lord Shemus Ragazzi vi devo dire Che questo livello che faremo oggi Noi non l'abbiamo mai fatto Prima d'ora E ma questo non perdiamo tempo E Minira Cartoon Entriamo nel Non tlapanalti il cervello Bene ragazzi allora Iniziamo subito A spaccare un po' di roba che è bello A spaccare la roba che è bello Allora ragazzi Il volume è a 30 Almeno Non lo scioglio Bene allora ragazzi Allora ragazzi Questo è l'ultimo livello Della serie Della serie Tazguante Dopo ci sarà Dopo ci sarà Sì esatto L'ultimo Ma questo è l'ultimo livello Poi ci sarà Tanto ragazzi prendiamo un po' di panini Che l'abbiamo C'è già una Cosa La sfida Fianale Salsiccia per pollo Chissà perché Deve faccio il testo Bene ragazzi Allora vi diremo che questo gameplay Noi lo stiamo facendo con il portatile Perché noi abbiamo una scheda Una scheda video troppo potente Figo la testa Quindi saltano i frame ragazzi Quindi ci saltano dei frame Nei giochi vecchi Quindi lo dobbiamo fare con il portatile Ma non avete idea di che cosa che c'è Di questo Sì perché sono io che lo so E oggi È un grande giorno Perché è il penultimo livello Perché è il penultimo livello di Dei cocorini Meglio prenderli perché non fanno mai male Soprattutto Mamma mia ma che brutto livello che è questo Ehi ce n'è uno là sotto Qua no C'è un altro Ragazzi prendiamo più panini Panini cocorigni possibili Non so dove cazzo siamo qua A momenti vado a finire in acqua Poiarda Bene ho combinato qualcosa ragazzi Ah Bene Sembra che dobbiamo schiodare da qualche parte la strada Per poter far passare quella carretta Allora Qua facciamo saltare un po' di roba Allora Dai cocorigno Allora Allora Uh Non ti riduco in briciole Bene ragazzi Secondo me diventa linda Ecco sì Di qua non ci sembra Che peraltro E' un po' di roba Dai 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 Via 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 No Questa non era più il caso Ehi c'è un po' corigno là sopra Cosa? Un po' corigno? Un po' corigno? Un po' Ci serve da un'altra parte Sì Quanto pare sì Va bene Qui niente abbiamo già fatto tutto Qua c'è un indietro d'accesso Quindi noi seguiamo Anche per me E quindi Aspetta 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 Cammina Cammina Nessuno Passerà Bene ragazzi Bellissimo Questo Questo attacco Ho fatto scattare Una sirene Ragazzi Distruggiamo un poster Mi sa di no No Ci siamo Anche Ci riduci Ah Adesso Per te Quello Lì Può passare Oh 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 Ah Così ti apre la strada Ah beh Per forza Sì Ah così Esploso il camioncino E noi siamo a posto Andiamo a vedere Se ho dimenticato qualcosa Questa zona Non l'abbiamo Perlustrata Non l'abbiamo Perlustrata Questa zona Qua c'è un trapano Ma ho idea Che per il momento Non possiamo farci niente Bene Ora andiamo Nella cabina E poi possiamo partire Intanto ragazzi Vi ricordo Di guardare Tutti i nostri Gameplay Tranne uno Ragazzi Mi raccomando Tranne quello Che ha avuto Più visualizzazioni Siamo a 1200 Non vi ringrazieremo Porca troia C'è una cassa Ma porca troia Andaci vicino C'è un pistola Che te però Ecco C'è un pistola Ragazzi Io voglio andare di qua Io voglio andare di qua Secondo voi Secondo voi Dovete aspettare Da re Dai Taz Uniluanted Ma secondo me Deve aspettare E che ci mettono Troppe travirotte Quindi E' facile Cada E uno Ce l'abbiamo fatta Per esplodere tutto Per esplodere tutto Che Iosemite Dopo tutte queste Trappole Ragazzi Comunque siamo A un milione E qualcosa Di Ricercato Tra poco Passiamo Dead or Alive Un altro ponte Che due palle Spero che almeno Ci porti da qualche parte Sto ponte Guarda che è poco vicino Alla Eccoci Vedi il tuo brutto Ha spento l'elettricità L'elettricità Uh Un cocorino Un cocorino Dai Ah ma c'è qualcuno Lì Bene Un po' di cocorini Che non fanno mai male Prendiamoli tutti Quelli che vediamo Non lasciamo Né indietro Né anche mezzo Non lo sono Niente Quello stronzo Vigliose Mitte Per mille rane Corrnute Porca troia Si manifesto di ricercato E uno Così Ah L'ha trivellato L'ha trivellato Oh L'ha trafallato Bene Dove siamo finiti? Ah Siamo tornati qui Ma non mi piace essere qui a me Dai vai No 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 Non la sensore No Infatti Non sto andando dalla sensore Dove hai sbagliato Che due balle No Stai lontano Ah c'è la cassa Già Aspetta che la distruggiamo Lì C'è un po' di cocorino Porca puttana Dai Dai Dopo dopo Toc Bene Spacchiamo tutto quello che vediamo ragazzi Ti riduco in briciole poppante Qua non si può salire Quindi torniamo indietro Dai 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 Taz Quelli lì non si sa bene come distruggere Nel senso Rompono solo i maroni Allora C'era uno Uno rompiballa Eccolo là Bene Adesso morirà Mossa segreta Del one Del one Ted Del one Ted Allora ragazzi Qua giù ci siamo già andati Ben detto Sì Sì Di qua Di qua No 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 Sì sì Di qua Di qua Di qua Quello che è messo Prendiamoli tutti dal primo all'ultimo Non lo devo lasciare A Sem Attenzione infatti c'è da fare attenzione Però possiamo andare finito qui Ah ma qua è dove eravamo prima Quindi attenzione non cadere lì C'è un po' di roba che Sam ha messo troppe cose in questo level Bene ragazzi siamo tornati ad essere dei minatori E ora possiamo proseguire Siamo già al 40% di istruzioni Non lo vogliamo Allora adesso dobbiamo andare di qua penso Ah eh ti piaceva Ti piacerebbe Ti piaceva Ah è qua la birra in disattiva Però devi passare Di sottile Allora ragazzi Allora di qua di qua di qua Dai bel Si deve passare di qua Eccolo Di qua Poi Di qua Oh mi ricordo Eccola Vai Bene E' uno No è due Ragazzi un milione e mezzo Siamo un milione e 571 ragazzi Di ricercato Tra poco diventiamo davvero D'ora vai Due milioni di ricercato E' già due ore Poi è già sfocato fuori A quanto pare C'è Ci sono tante distanze Che so Sono uguali Qua C'è una raiettra C'è una raiettra Si esatto Si distrugge Qua c'è un divieto Vedremo perché C'è un divieto Qua c'è un po' Corino Mi sa che sono già arrivati Al bonus di distruzione Noi siamo Eeeh Sono sopra Ah Oh Che brutto suono Però io ho visto Un ricercatore di cassa L'abbiamo visto Un ricercatore di cassa E quindi adesso Boh Attiviamo E proviamo ad andare Di qua Boh Non lo so Non lo so mica Perché di là Non mi sembra mica Di vederla la cassa Eccola infatti Eccoci qua Adesso Proseguiamo Per di qua Ah Dei cocorigni No 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 Per prendere i cocorigni Sono volato giù Va bene ragazzi Niente paura Mi ricordo la strada E possiamo andare Tranquillamente Di qua Se non mi ricordo Se notate Nella musica Quando facciamo Il tornado Il vortice Cambia La musica Diventa più aggressiva E il mio socio Me lo fa notare Ogni due secondi Quindi ve lo Quindi ve lo dirò E ora E ora Ora Non muovo Tentiamo Di Sì mi sembrava Di secolo Adesso ci arrivo Di tornado Di vortice Ah ragazzi Ma lì c'è un coso Di manifesto Come ci arrivo Io lì Ah ecco Come ci arrivo Abbiamo già Trivellato uno Poi dopo Abbiamo trivellato Il secondo E poi adesso Facciamo saltare in aria Il terzo Doi Tre E tre Quanto? Un milione Seicento e ventuno Mila di ricercato Allora Dove possiamo andare Adesso C'è un coperino Però ti vedi Sì Dove vado? Aspetta Vado a fingire Che non è il problema Adesso Torniamo indietro Intanto Proviamo a fare L'altra strada No Forse non si riesce Al contrario Bene Dobbiamo rifare Tutta la strada Sperando Perché Fai dopo Ah ok Allora 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 Cosa è questa cosa? Tornando su Mamma mia No Come in Taz Fantasma C'è una cosa Analoga Andiamo a sinistra No C'era un panino Ah Suicidati 50 Come faccio a suicidarmi? Lui Adesso vedremo Bene ragazzi Ah sì Perché bisogna evitare Ok Proviamo a non evitare A evitarli E poi dopo Mi scompro Tanto il popolino Massimo La vado a prendere È bellissima Sì Sì 37 38 Guarda quanti popolini Che ci sono qua Sono lecce C'è un'altra Ah Si frena anche Bene Aiuto Aiuto Tento Tento Sinistra Sinistra Adesso Eh sinistra Volevi Stare vi seguire Ci interrompono Anche le rotaglie Ragazzi C'è Mezzo di così Tento Continuiamo Andare Tanti panini Ci sono Sì Sì Sono 45 Salta Hop Destra Di qua Tento qua Destra Sinistra Destra No Cos'è successo Non lo so No Ragazzi Cos'era successo Cos'era successo Sì sì Bellissimo Ah no Allora il panino L'abbiamo dimenticato di qua Tanto moriremo ancora ragazzi Tanto non preoccupatevi Sto livello mi sembra abbastanza difficile Chissà che cosa troveremo alla fine Niente Di questo livello Di questo livello Perché ma beh ha curvato la rotaia Ma beh ha curvato la rotaia Ma beh ha curvato la rotaia E' una cosa che non va bene E' una cosa che non va bene E' una cosa che non va bene in questo momento Due di giuro Qua non si vede niente Qua non c'è neanche il visuale Adesso Salta TOP Sì ma ragazzi Ma quanto ce lo fanno durare c'è sta cosa Adesso Spero che almeno dopo quella parte l'altra Sia finita Destra Tantralalalalalala Salta Toppi Salta Toppi Per ora Per ora Per ora Bene Forse se Adesso torniamo nella parte fatidica Eh Questa è la più bella Ecco dopo questa era Salta Mi sembra Destra Eccola qua Sì Allora ragazzi Destro Sinistro Pinto Destro Sinistro C'era anche un C'era anche un manifesto di ricercato Ma secondo me Aspetta C'erano degli altri panini Come c'erano degli altri panini Bella domanda Per me devi deviare le rotaie allora sto qui Prima Ma posso fermare Attenzione che non è finito No infatti Uh Attenzione che non è finito Va là Tre Eccolo Adesso 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 Si però Non si vede niente Salta E adesso Ah E' finito il viaggio Ce l'abbiamo fatto ragazzi Viva Ce l'abbiamo fatto ragazzi Ci hanno avviato i panini Ah non lo so Non so neanche come ho fatto io Cambiare la retaglia Però Il problema è che Hai girato adesso 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 E' uscito Un Una lavatrice che trita Un mattone Ah Un manifesto di ricercato No Quindi Le monetine dopo che ce ne facciamo Bu Ma Fin Se basta tutto lì No Adesso vediamo cosa devo fare Per distruggere il manifesto di ricercato Per mille rane corrente Raffa di citrullo che non sei altro Raffa di citrullo che non sei altro Mi dice Non lo so Tra lallero Tra lallero Tra lallero Tra lallà Vuole darmi calci Spero che Esploda Ti sei limitato Come faccio ad andar là? Come faccio ad andar là? Tra lallero Pi식 Chi Tu Di rained Grazie per la visione!